Conclusa la riunione provinciale che ha visto protagoniste tante squadre del mondo dilettantistico irpino, del calcio dilettantistico irpino, non poteva mancare l'apporto del presidente Cosimo Sibilia che appunto ha parlato della situazione attuale del mondo dilettantistico in Irpinia ma soprattutto si è soffermato anche su quanto sta accadendo nell'ambito nazionale. È qualche giorno che stiamo vivendo il dramma dell'eliminazione dell'Italia dal mondiale e anche ieri abbiamo svolto tante riunioni per cercare di porre rimedio alla difficoltà della quale si faceva riferimento prima. Oggi invece è una giornata di incontro, di festa, nel senso che celebriamo le società, le squadre che hanno vinto i campionati, che hanno vinto la Coppa Disciplina, cioè una festa del calcio irpino in ambito regionale. E ci avviamo poi a quella che sarà la consultazione elettorale quando ci saranno le elezioni e quindi il ritorno alla gestione ordinaria del Comitato. Presidente, ritorniamo un po' sul palcoscenico nazionale dopo l'uscita di scena della Nazionale Italiana. Secondo lei a cosa è dovuto questa specie di crisi e come si può uscirne? Io faccio una considerazione. Noi siamo usciti dal mondiale pur non avendo rispetto alla Svezia sfigurato. Sicuramente in due partite non abbiamo segnato, non abbiamo fatto gol, però abbiamo preso un gol su Autorete. Più volte nella partita di ritorno siamo stati nell'area di rigore della Svezia, però alla fine il risultato non c'è stato. E questo è il punto vero della situazione. C'è da registrare, c'è da ripartire. Aspettiamo che il Presidente della Federazione ci faccia avere il nuovo programma, le linee programmatiche per partire con questa ripartenza. E quindi lunedì ci sarà una pronuncia del Consiglio federale sulle questioni delle quali facevo riferimento. Grazie.